Il Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, e la Presidente Nazionale Unicef, Carmela Pace, hanno firmato questa mattina un protocollo di intesa triennale per la valorizzazione delle attività di collaborazione e di public engagement rivolte alla tutela dell'infanzia e allo sviluppo sostenibile. Si tratta di un rinnovo di un accordo siglato nel 1993 e che si inserisce nell'ambito del protocollo di intesa firmato nel 2018 tra il Comitato Italiano per l'Unicef e il MIUR. L'Unicef ricomincerà a derogare i corsi universitari multidisciplinari di educazione e diritti che all'Università di Sassari sono stati una realtà consolidata per ben 27 anni, interrotti unicamente dall'emergenza sanitaria Covid-19. L'Ateneo di Sassari, dal canto suo, ragiona ormai anche nella prospettiva della terza missione ed è impegnato a valorizzare il public engagement come processo a due vie di ascolto, dialogo e interazione collaborativa con la cittadinanza, il pubblico non universitario e in generale con i diversi portatori di interesse della società. Per noi è importante collaborare con le università perché solo attraverso la cultura si progredisce, ha detto Carmela Pace. Gli aspetti culturali e di formazione sono un presidio di civiltà, ha aggiunto Gavino Mariotti. Alla firma era presente anche la presidente di Unicef Sassari, Maria Grazia Sanna, che porterà avanti assieme all'Ateneo sassarese la progettazione delle singole azioni a supporto di giovani, bambini e bambine, con particolare attenzione alla fragilità dell'infanzia.